Goditi la tua passeggiata in sella ad uno scooter elettrico. Da noi puoi noleggiarlo o acquistarlo, tra tanti modelli diversi. Ci trovi alla Galleria Mediterraneo in via San Leonardo 52, a Salerno. Domani la Cavese affronterà i Castrovillari al Simonetta Lamberti, con l'obiettivo di fare il risultato pieno. E la squadra di Troise dovrà fare il necessario, evitando di farsi condizionare dagli altri risultati degli altri campi che dovessero essere sfavorevoli ai metelliani. Per ottenere la promozione dalla Serie D ai professionisti bisogna arrivare al primo posto. La squadra capolista nel girone I è attualmente il Gelbison, che ha 54 punti, 4 in più rispetto ai bianco-blu. Quindi, comunque vada a finire il turno di domani, sarà in testa la formazione vallese. Ma la Cavese spera almeno di riuscire a ridurre questo distacco, così come ci spera la Cireale, che condivide la seconda piazza con i bianco-blu. Ascoltiamo come Emanuele Troise, il tecnico della Cavese, ha presentato la partita col Castro Villavi. Come ho detto, la settimana scorsa il campionato è ancora lungo, ci sono ancora tante tappe fondamentali. Noi dobbiamo concentrarci sulla partita di domani, perché è un'altra tappa fondamentale per il nostro percorso. E quindi sono abbastanza fiducioso per la gara di domani. Comunque abbiamo avuto la settimana a disposizione completa per toccare vari punti, e quindi siamo riusciti a lavorare sia sul piano gara che su quello che può essere un condizionamento psicologico che è altrettanto importante. La probabile formazione della Cavese per domani dovrebbe essere Anatrella, Gabrieli e Caserta, Maiorano, Lomastu e Viscomi, Baccio Terracino, Corigliano, Allegretti, Banegas e Romizzi. Possibile turno di riposo per Aliperta e anche per Fissore. In giornata le convocazioni. Probabile risposta del Castro Villari, allenato da Marco Colle, Aiolfi, Di Bari e Anzillotta, Trofo, Strumbo e Mazzotti, Azzaro, Rosa Gastaldo, Padin, Teiu e Tripicchio. Sono squalificati ben tre giocatori tra i calabresi, il difensore Cinquegrana, il centrocampista Cosenza e l'attaccante Rodi. La classifica vede il Castro Villari a 20 punti, in piena zona play-out, allo stesso punteggio del Giarre. Il turno di domani prevede anche Sant'Agata-Giarre per la zona salvezza, a Cireale-Troina, la Mezzia-Sanluca e Portici-Gelbison per la zona promozione. La partita a Cavese-Castrovillari, che avrà inizio alle 14.30, verrà diretta dall'arbitro Alessio Marra, di Mantova. I guardaline saranno i signori Lombardi di Chieti e Chiamaroli di Pescara.